Allora, tra 5 minuti iniziamo questo convegno fortemente voluto per un obiettivo ecologista europeo fare ambiente per la sezione provinciale di Foggia. 5 minuti ci riprendiamo soltanto perché essendo ospiti di questo veranitoso salone stiamo aspettando il consigliere delegato all'ambiente della provincia di Foggia e di San Udizia. Io intanto devo ringraziare i sintaci presenti e appunto Vincenzo Sarko, esiste a quello di Ascoli Sarko, Sarko e Sarko, Sarko e Sarko, Sarko e Sarko e Sarko e Sarko e Sarko e Sarko con questi vizi attiva anche il presidente della provincia di Vola Carta, il sindaco di Foggia, Franco Lantella, il sindaco di Samponeta, Vincenzo D'Aloviso, quello di San Manolo Lacacola, De Martini e il sindaco di Cerenza, Valfortone, Luigi Amico, loro sicuramente credo che saranno qui durante il corso dei d'avuti. Però visto che stiamo attendendo il consigliere delegato all'ambiente della provincia, Rosario Cusmani, che è iniziato il lavoro di questo convegno, io devo fare un ringrazionamento particolare in qualità anche di capo ufficio stampa dell'administrazione, allora ormai un ex collega, ma per me è sempre un collega, anche se adesso è un regionale, felice scompice, perché... Io mi sono avvicinato a questo monumento, grazie a lui, e naturalmente mi sembra superfluo anche retorico ricordare che oggi anche nella agenda di governo, al di là delle collaborazioni politiche, che sicuramente lasciano il tempo che trovano, a parte del discorso sociale, i temi ambientali sono quelli all'ottica del giorno, fare ambiente, come dire, si è mossa nell'ottica, quest'ottica, in momenti non sospetti, che oggi diventa quasi, io adesso vedo tanti corregli dei massimili, e qui diventa quasi una moda, essere, come dire, avviene questa coscienza ecologica, e in caso è che davvero siamo quasi arrivati alla futta, no? Per il discorso, allora quindi tutti poi si agganciano a questo caso che sicuramente è il futuro. Il problema rimane sempre fuori, e qui lo dico come giornalista, non come uomo delle istituzioni, le istituzioni dovrebbero fare molto tanto di più. Non è il caso di questi sindaci che sono stati sensibili alla tematica, anche perché sono riusciti a coniugare un po' le due esigenze. Quello di avere un number bloccato, ultimamente, nel gruppo lungo, non si assume, non si può assumere da decenni, è quello di poter utilizzare il volontariato come fonte davvero alternativa a servizi che poi invece non si riesce a dare, non per cattiva volontà, anzi, diciamo che nei comuni, soprattutto nei piccoli e nei beni comuni, la raccolta differenziata è un caute, cultura, è un punto di fare e modo anche di disbarmiare, sia per i cittadini che per le istituzioni. Purtroppo non è qui nella politica ricerca, e noi, dobbiamo dire, siamo un attivino di fanalino di coda, e qui va a ritrovarsi il discorso su questa coscienza ecologica, che deve essere una coscienza di fatto e non di parole. Diciamo che il mondo del volontariato riesce poi spesso a soffermire alla mancanza delle istituzioni. Intanto sono arrivati, devo dire, i saluti di alcuni, un po' con me, da parte del nostro Paolo Sier, per questione di Foggia, che impegnando non è dovuto essere qui con noi, da parte della sessione del Mastino, che è la sessione dell'ambiente del Comune di Foggia, e di forte saluti anche, ci ha raccontato una mecca di saluti anche del sindaco della, anche lui impegnato, in questo caso fuori Foggia, e del profilizzatore seccionale di fare il rievo, il dottor Mischoscia Benevento, anche lui impegnato, sembra a Bari, sembra un quadernato, mi dicevo se c'è scoprice. Comunque, diciamo che l'ambiente di sicurezza e territorio, il volontariato, sono quattro parole, ma sono anche quattro momenti di vita sociale, nel senso che tutti e quattro questi momenti compongono quello che è davvero la coscienza, la coscienza ecologica che ognuno di noi dovrebbe avere, e devo dire che molto lo stanno facendo le scuole, perché è soltanto una divulgazione ambientale che ci si può avvicinare in questi tempi, cioè già da piccoli. Io rammarico, poi non la faccio molto lunga, perché ho accanto così i sintaci, che naturalmente gli interlocutori tecnici che intermeranno durante questo momento, io però sono rammarico, perché trovo, come sempre, dobbiamo metterci poco di più, perché noi non siamo secondi al nord o al centro Italia, perché io mi capisco, perché quando ci si va fuori, la carta non la si butta a terra, un cittadino di Foggia quando va di là, e invece quando è a Foggia la lotta, stranamente. Vedendo che invece nei piccoli paesi, e sono tanti, più 61 comuni dalla provincia di Foggia, c'è invece una maggior cultura, c'è anche un maggior rispetto del proprio paese, quindi bisogna iniziare dalle piccole azioni, dalle piccole e grandi azioni. E ripeto, fortunatamente c'è il mondo del volontariato ma a 360 gradi, che poi soffermisce a quelle che sono proprio carezze strutturali, carezze spesso di certe, parliamo certi di altri, diciamolo chiaramente. Qui i sintaci presenti davvero ce l'hanno un po', perché loro hanno trovato delle situazioni costituite, e quindi hanno molto spesso tanti di loro reinventati, reinventati un mondo di amministrare sicuramente diverso e sicuramente più vicino alla popolazione. Ma anche loro, guardate, anche loro, non di loro, tutti loro, sono delle vere e delle proprie sentirete. Loro sono sentirete anche sociali, ma anche ambientali, perché secondo me ogni sindaco ha interesse che la propria cittadina si possa presentare del miglior modo possibile. È una cittadina per presentarsi del miglior modo possibile al turista, all'utente, anche agli stessi cittadini, da essere una cittadina, con sentire, tra virgolette, pulita. Pulita da tutti i punti di vista, non solo meno materiali, ma anche due riguardanti. Questo è il loro sforzo. Allora, io direi, sì, direi iniziato, quando arriverà fuori il consigliere Guzmai ci porterà i saluti del Presidente di Collagatta. Quindi, naturalmente non faccio... Quindi la parola al sindaco di Ascoli Sacriano, il Vincenzo Sartone, per i saluti istituzionali, il sindaco è la domanda, gliela faccio un antico prima. Perché la scelta di essere vicini a fare ambiente e quindi di dare questa possibilità alle guardie esofiche di poter operare nel suo comune. Grazie per averci detto la parola. Io vi ringrazio tra l'ambiente, molto meglio ecologico, per avermi invitato. rispondo subito alla domanda, già che la vista civica, la pecca peggiata, che poi è avvito alle scorse elezioni amministrative del 2016, è una vista ecologista, è un movimento, parte da un movimento ecologista, perché noi avevamo un problema grandissimo, era quello che una società volevo installare, nella zona industriale di Ascoli Sacriano, un impianto di depondibilizzazione, in pratica, della trasformazione a caldo della pastica di rasole e carosini, via sperimentale. Un altro impianto era stato costruito nella città di Zurg, in Zurg, in Svizzera, e poi era stato uso proprio per il guidamento. Ci siamo attivati tantissimo, abbiamo montato, oltre a questa, c'era una multinazionale, poi alla fine ci siamo riusciti, anche con alcuni capetti giuridici, a non far distrattare quell'impianto. E' stato buonissimo, quindi il mio movimento, la mia vista civica, nasce come una vista ambientalista, quindi non posso che essere vicino a questo movimento ecologico, fare ambiente. La sensibilità di Ascoli Sacriano. Ascoli Sacriano è un paese demograficamente piccolo, perché 6.500 abitanti, però in realtà il territorio è vastissimo, il quinto in provincia di Foggia, e quindi è difficile anche evitare questo territorio, controllare questo territorio. Come diceva giustamente il relatore che abbiamo preceduto, le disponibilità finanziarie anche di persone in comuni piccoli, come quello di Ascoli Sacriano, sono limitate, perché non possiamo assumere altro personale, tipo vincidi urbani, però abbiamo la fortuna di Ascoli Sacriano che ha la stazione dei caratteri forestali, con i quali c'è un rapporto di collaborazione istituzionale, cerchiamo di evitare quell'inquinamento che sotto gli occhi di tutti, io ho affrontato recentemente un'ipotesi di inquinamento, quello sversamento di percolato del fiume Carapelle, Carapellotto che poi confluisce le Carapelle e che attraversa il mio territorio per 10 nomi, poi va a sfociare nel gruppo di Manfredonia e poi anche attraversa il territorio della città di Carapelle. E' stato difficile anche perché il Sindaco si trova veramente da solo con il suo ufficio tecnico e con persone che il più delle volte non hanno quella competenza per affrontare questo tipo di problema. Abbiamo ancora altri tipi di problemi, però finalmente abbiamo risolto quanto meno, come dicevo giustamente che abbiamo accennato prima, quello della raccolta differenziata. Ascoli-Salviano sono ben 3 anni che riceve il riconoscimento di comuni e riciclute. Alcuni, altri comuni hanno detto che la raccolta differenziata in qualche modo provoca un aumento della taglia, delle tasse, quindi si crea una impopolarità, una parte dell'esigenza di garantire la raccolta differenziata di Ascoli è arrivata al 72%. Dall'altra parte però vi è un aumento della taglia in modo esponenziale, però noi abbiamo affrontato anche questo e con una rimodulazione siamo riusciti, uno dei luoghi comuni, a ridurre la taglia rispetto agli anni pregressi di ben 270.000 euro rispetto a un importo totale di 1.200.000 euro, quindi la percentuale è molto alta, con una rimodulazione con alcuni studi che sono stati fatti. Ascoli credo che è una città, un paese pulito all'interno delle città urbane, però fuori non riusciamo a controllare il territorio. Abbiamo alcune discariche abusive, abbiamo delle discariche abusive, abbiamo degli inquinamenti, degli sversamenti da parte anche di persone poco sensibili, diciamo a un problema ambientale e questo veramente io non riesco ad affrontare, è un problema grande e spero che invece con l'aiuto del volontariato di fare ambiente riusciamo in qualche modo a fronteggiare questo problema che è un problema di tutti. Spero di risolverlo e grazie a tutti quanti voi. Buongiorno a tutti. A presto, allora, mi chiamo al consigliere delegato Rosario Usmai, che porterà anche i saluti del presidente di Gola Gatta. La provincia di Foggia con la presenza del consigliere Usmai dimostra ancora una volta la massima sensibilità a questi temi e noi siamo davvero orgogliosi di... Mi sembra che questo è il secondo e il terzo anno che ospitiamo, si dice che non va per caso questo convegno che noi naturalmente teniamo priorità per le sensibilità, sì perché spesso la comunicazione è importante, ma avere degli esperti, soprattutto anche il valere dei sindaci che vivono tutti i giorni sul territorio tutte queste tematiche, appunto come diceva il sindaco Sanzone, rimette a priorità, quindi la parola al consigliere è legato Rosario Cusmani, anche lui uomo delle istituzioni, ma soprattutto uomo con una coscienza ecologista, diciamo nella primora, direbbe qualcuno, no Rosario Cusmani, diventare ecologista oggi, quello che staccaremmo sembra quasi, ripeto, una nuova, non deve essere, deve essere un convincimento, perché il nostro futuro è proprio questo, noi questa terra la dobbiamo preservare, la dobbiamo conservare per darla alle future generazioni e naturalmente dobbiamo semplificarci e quindi cercare di fare un fatto ambientale il più lencino possibile. Grazie, buongiorno a tutti, io sono Rosario Cusmani, legato all'ambiente di provincia, porto i saluti di Nicola Cattaro, del Presidente, di tutto il Consiglio provinciale. Sono contento di far piacere che questa organizzazione e manifestazione che deve scelta come location la provincia, della provincia, proprio comente come istituzione, deve essere attente ai bisogni di tutto il territorio provinciale. Grazie a te per quello che fa, perché la sensibilità, come anche associazione di guardie zofile, è importante, perché dove anche le forze dell'ordine non riescono ad arrivare, perché abbiamo un territorio vasto, molto fammi le associazioni, le associazioni ambientaliste, perciò mi auguro un loro impegno, noi ci siamo sempre, anche per l'annetto del impegno, per quelle che sono le tematiche che inizieremo ad affrontare da gennaio, stiamo lavorando con il dirigente, Stefano Piscotti, per vedere cosa abbiamo a disposizione sui fondi che sono ancora in bilancio e per l'attenzione vi dedicheremo da gennaio in poi questa fine programmazione di dicembre per tutto ciò che riguarda il territorio, l'assetto del territorio, il controllo del territorio, ma soprattutto tutte le operazioni di bonifica, cui poi la provincia è chiamata all'assorto, ma soprattutto la prevenzione, quello che poi costa, quando ci sono materiali di risulta, quando i cittadini non acquistano comunque, fanno incide cento volte in negativo sull'ambiente e soprattutto sui costi, soprattutto sui costi, quando veniamo per la strada provinciale pieni di detriti, un'informazione di maggior sensibilità da parte dei cittadini è importante e credo che questo è quello che voi fate giornalmente, perciò buon amore e poca buon amore. Grazie consigliere Cusmani per questa preziosa testimonianza e per aver ribadito ancora una volta l'avvicinanza delle istituzioni, soprattutto dell'amministrazione provinciale, a queste tematiche, anche se negli ultimi anni, come dire, tutta una serie di misure sono state fortemente limitate, sono passate a livello regionale, invece noi siamo sempre più convinti che un maggior recentramento e soprattutto il combinamento rafforzato da parte della provincia per considerare i cittadini, ma per considerare gli stessi comuni sia quanto ormai necessario. Allora, i saluti adesso da parte di Nicola Sala, la salvia sindaco di Santa Cara di Puglia, che insieme agli altri sindaci che sono qui a questo tavolo è il saluto di quei sindaci, coraggiosi di aver patricinato questo posto di quadri ecososite. Al di là appunto dell'esigenza di, tra virgolette, di correnti topici, di riportare gli organici quando manca qualcuno o due decisioni volontari, lo vediamo anche sui temi dell'accoglienza. Sindaco, una scelta ponderata, la tua o quella della tua amministrazione? Grazie, grazie a voi e a tutti, grazie per aver passato alla vostra. La mia amministrazione comunale di Santa Cara è molto, diciamo così, diretta alla tutela dell'ambiente e del territorio, ne sono delle priorità a cui non si può rinunciare. Noi molte volte vediamo per le strade, per le punette, non solo per quanto riguarda l'acro di Santa Cara, ma in genere, molte volte vediamo rifiuti buttati così in maniera selvaggia, molte volte vediamo residui di calcinacci, gomme, fioritori, cioè ci buttano di tutto e di più. E' chiaro che questo modo di fare da parte di alcune persone, certamente non ci farà anche dal biglietto da visita per qualcuno di altre persone che magari si trovano anche casualmente a circolare nella nostra provincia. Non ci onore, non è una passione, non c'è ora. Però è importante, secondo me, iniziare dai piccoli, dalle scuole, insegnare a tutti quello che è il valore dell'ambiente, quello che è il valore del territorio. Noi abbiamo in Santa Cara, abbiamo grazie a Dio dei boschi, anche lì molte volte troviamo di tutto e di più buttati così in maniera selvaggia. Quindi diventa per noi anche un costo molto oneroso andare a risanare. Quindi quello che dicevo, quello che è il mio messaggio, è quello di tutelare, tutelare come? E' chiaro che nei piccoli comuni, come Dio, noi siamo a meno di 2.000 abitanti, abbiamo tre vigili urbani di cui dopo il prossimo anno prossimo andranno in pensione, per cui abbiamo anche questa priorità che bisognerà in qualche modo risolvere. è chiaro che fare ambiente, ma noi potranno darci sicuramente una grande mano, un aiuto, tant'è vero che quest'anno abbiamo ospitato il corso anche a Santa Cara, se non sbaglio oggi pomeriggio ci sono gli esami. Mi auguro che i ragazzi che hanno partecipato stasera si perderanno, diciamo, l'attestato per superare in maniera dell'altra, la prova, che cosa può fare per fare ambiente? Padre ambiente può fare molto, perché può collaborare con le istituzioni, con le mozze dell'ordine locale, che sono ovviamente sempre in maniera carente. Quest'estate abbiamo fatto l'estate santa carenesi, tredici giornate di musica, spettacolo, movimento e grazie a Dio, grazie anche all'aiuto, alla collaborazione dei volontari di Parambiene, vedo l'amico Gino Quirale che è stato il numero uno a darci una mano. Grazie a Dio, grazie quindi come dicevo all'aiuto che danno i volontari, non solo in questo caso Sottolto Parambiene, ma tante altre associazioni di volontariato, ci hanno dato la grande mano e la possibilità di svolgere queste attività, grazie a Dio, senza nessun problema. E' andato, è caso di dire, liscio tutto come l'ordine. E quello che, ripeto, è il nostro augurio, è quello di poter collaborare. Il volontariato può fare tanto, moltissimo, soprattutto con le nostre piccole comunità, che non abbiamo la possibilità di spendere diversamente, perché, come diceva anche l'amico Vincenzo Sartone, non ne abbiamo grandi disponibilità da poter spendere in altre cose. Abbiamo, le nostre risorse sono già ben destinate, quindi non abbiamo maggio, grossi margini di manovra. L'altra cosa che volevo dire è, io parlo del territorio di Sant'Agata, come Vincenzo parla del territorio di Ascoli, però noi dobbiamo, c'è il rappresentante della provincia, che cosa dovremmo fare tutti quanti? Secondo me, dobbiamo tutelare, io parlo dei mondi d'Avoli, perché faccio parte dei mondi d'Avoli, come dall'altra parte di Agamice, una tutela dei mondi d'Avoli. Perché questo? Perché i boschi, come dicevo prima, molte volte sono diventate delle discariche, è possibile. Quindi, in volontariato, voi potete fare tantissimi, sempre, ovviamente, coordinare con le varie amministrazioni. Quindi il mio augurio, il mio auspicio è questo, collaborazioni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. La nostra scelta è stata un obbligo di parlare di ambiente. La storia della nostra amministrazione, il 14 giugno del 2018, la nostra amministrazione si è insediata, il 16 giugno eravamo in prefettura, il 16 in regione perché avevamo rifiuti che arrivavano sotto i balconi a primo piano. Noi abbiamo vissuto la crisi della SIA e quindi abbiamo avuto un problema ambientale serio. Per cui, diciamo, è stato un anno e mezzo, io lo definisco stato un tagadano, nel senso si salva o non si salva l'azienda. Tuttavia abbiamo preso la potenziosa decisione di partire, nonostante questo, con la raccolta differenziale, da luglio del 2019. Ed il risultato è un risultato che ci ha lasciato anche i nuovi studi, siamo forse il 70% della differenziazione dei rifiuti. Per cui il momento di crisi è stato per noi un'opportunità, quella di partire con la raccolta differenziale. Naturalmente il tagadano continua, da un retipo probabilmente si sapeva di nuovo il servizio, infatti l'antropia prima vi chiedo scusa proprio perché abbiamo una riunione, un coordinamento ambientale per evitare che ci sia di nuovo il blocco della raccolta tra i rifiuti. Ma il discorso è questo, il discorso è stato centrato da chi mi ha anticipato. Il lavoro che fanno i volontari, che io ho avuto il piacere di conoscere grazie all'assessore Bonigia D'Agnieri che ci ha presentati ed è iniziato un percorso con il gruppo. A me piace vedere un sogno che questo percorso, rispetto alla comunità nostra ma più rispetto a tutto il territorio, perché i problemi poi sono simili, nel senso che abbiamo tutti gli stessi problemi. Noi il problema più grosso per esempio che stiamo avendo adesso è quello dei roghi, durante l'estate dei roghi che riguardano tutta la comunità della Poligia di Forza. Io ho capito, io in qualità di Presidente dell'Unione di 5 Malesiti ho chiesto un coordinamento alla Prefettura che è intervenuta, ha coordinato dei tavoli con le associazioni di volontariato, con i carabinieri forestali, ma è un problema che secondo me va affrontato insieme con le province, insieme con la Prefettura, insieme con le associazioni, perché è uno dei problemi più sentiti dalle cittadinanze in questo momento, perché comunque ci sono momenti la sera e l'estate dove non si respira nelle nostre comunità, per cui bisogna intervenire in questi problemi. Il mio sogno, dicevo, è sto cercando di lavorare con le scuole, con quelli che sono i ragazzi, e che si cerchi di limitare sempre di più il sistema sanzionatorio e cercare di incontrare una mentalità vera, ecologica, perché io ritengo che se si riuscisse a lavorare bene sui ragazzini, quando un ragazzino ritrova il genitore, secondo me fa più peccia di una contravenzione, per cui dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione e, come diceva, al di là di quelli che sono i territori, è necessario però che ci sia un coordinamento, perché spesso non sappiamo neanche a chi chiamare quando c'è un voto o quando c'è qualche problema di questo tipo, per cui avere un numero unico a quale fare riferimento e magari che co-ordine tutte le associazioni che fanno un bellissimo lavoro, io non finirò mai di insanziarvi. Per cui è auspicabile, lo sago, che dal gennaio ci mettiamo a lavorare affinché ci sia un coordinamento unico con la provincia per questo problema dei voti, perché, ripeto, adesso è un momento in cui non ci sono, ma poi nel momento in cui questa cosa viene di nuovo alla riparta, in quel momento in cui diventa difficile incontrarsi, fare i tavoli tecnici, bisogna anticipare il problema, da cui l'auspicio è anche questo. Quindi vi baglisco i saluti mie e della mia comunità e vi auguro il buon lavoro a tutti. Allora, grazie a tutti e a tutti, quindi chiudiamo la prima parte, quella dei saluti istituzionali, adesso entriamo un po' nei tipi tecnici di questo. E io l'abbiamo chiamato il dicembre manifestazione, ma in fine il proprio convegno, perché abbiamo sentito che appunto l'incontro tra la provincia e i sindaci è quanto mai interessante, proprio per quel cuore di coordinamento che diceva anche il consigliere di Ismail, che è proprio della provincia, e vi sembra anche interessante l'intervento dei sindaci, che è, come dire, vi conosco qualcuno, che tutti insieme si può fare squadra e tutti insieme si possono ottenere risultati sicuramente più soddisfacenti per il territorio. Io devo soltanto modificare un attimino la scaletta rispetto al programma che avevamo previsto per questo convegno. Prima perché dovrebbe arrivare, tra un'altra circa, l'assessore del giornale Stena, l'assessore dell'ambiente, quindi loro vivono da Bari, che diamo un po' più di tempo per raggiungerci. Poi dovrebbe arrivare anche il presidente dell'ARPA, il senatore Cassano. Però iniziamo nei dettagli tecnici, appunto, del convegno. Quindi, Michele Piacquattio è un imprenditore, perché è un imprenditore? Chi meglio di lui può, chi meglio di Michele può pagare, di temi ambientali, lui che ha a che fare con quello che fosse il prodotto principale della capitana, appunto il grano. E allora, Michele Piacquattio intieme a latte del grano, produzione biologica e trasformazione. Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto saluto gli organizzatori, i fidesci e tutte le autorità che sono presenti, tutti voi. Scusate se sbaglierò per rimozione, tutto è consentito. Allora, io vi presento innanzitutto, sono l'ingegnere Piacquattio Michele, sono uno dei cinque ingegneri soci di un gruppo di 13 aziende che si occupano di ingegneria, si occupano di energia e si occupano anche e soprattutto di agricoltura. Sono anche il segretario dell'Europa di distretto venturamento di Michele. E a proposito degli ambienti, dopo qualche domenica fa, nei mesi scorsi abbiamo organizzato una raccolta di rifiuti nelle zone di Cassarello e altre zone di Lucera che erano un po' abbandonate, un po' per dare l'esempio di tener pulito in quel paese. E prossimamente, invece nei prossimi mesi, prima di Pasqua, organizzeremo invece un evento che si chiama Plastica No Grazie, è un evento che unisce gli agricoltori, i produttori di alimenti che si riuniranno in una piazza centrale per vendere i propri prodotti in maniera tale da poter devolvere il 50% di quello che si vende a un progetto che, come dicevo, Plastica No Grazie, dove andremo a comprare delle borracce e distribuirle in una scuola campione in Lucica. Ovviamente io mando l'invito a fare l'ambiente di poter partecipare anche in questo evento e poi a tutti i sindaci eventualmente di partecipare nell'acquistare i nostri prodotti e se dovesse andare con un fine di replicare anche questo progetto in tutti i comuni della provincia e di Foggia e anche di Napoli. Va bene, presso questo vi parlo un po' di cosa facciamo, facciamo agricoltura biologica con due attività, con due aziende, denominate Energy Biofarm e Terre Lucane, Società Agricole, Terre Lucane perché la nostra azienda inizia a prendersi sviluppare nel territorio della Basilicata però adesso è, diciamo, un'azienda ibrida, sia Apple che Lucane. Attuiamo agricoltura biologica, quindi senza l'ausilio di chimica. Inizialmente noi effettuiamo delle analisi chimiche al territorio e questo lo facciamo uno per capire se il prodotto finale viene da un terreno muro e poi soprattutto per vedere come è costituito il terreno perché oggi, a mio parere, agricoltura biologica non significa solo produrre un prodotto bio per far qualcosa dei confronti dell'indiente perché dovete sapere che immettere una quantità di coefficiente su un terreno significa creare dei fondi, quindi effettuare un'analisi chimica del terreno significa arricchire il terreno della consistenza mancante, quindi a mio parere quantità di potassio o di altri materiali in funzione di quello che è la mancanza di un terreno. Quindi questo comporta anche un risparmio, un risparmio vero e proprio perché capire di immettere una quantità di conoscine organiche più inferiore significa anche risparmiare tantissimo. Poi per quanto riguarda invece la lavorazione, ovviamente facciamo delle lavorazioni molto superficiali, questo significa evitare di immettere in ambiente quantità esagerate di CO2 e per quanto riguarda invece gli serbi utilizziamo soprattutto per il grano e gli serbi meccanici, quindi con uno strigliatore, un'apprezzatura che molti non conoscono. Ovviamente l'agricoltura biologica, ci sono pro e contro. i prodotti sono ovviamente quelli di ottenere un elemento naturale, un elemento che faccia bene, però i contro sono all'interno dell'azienda stessa perché a volte per poter realizzare questo progetto i costi di lavorazione, i costi per la scelta del seme, i costi della non chimica però invece di andare sulle sostanze organiche, sono così tanto elevati che ci si va a scontrare poi con una problematica che è il mercato, perché spesso ci sono sacrifici, ci si salvaguarda l'ambiente, però ci si scontra poi con dei costi oppure con chi fa comunque biologico, ma sposto, attua dei prezzi inferiori, taglia le norme a chi vorrebbe realmente fare le cose per me. Questo comunque è un problema che non vorrei trattare qui, però lo menziono. Una volta poi racconto ancora il processo finale del prodotto racconto, ovviamente si raccoglie il prodotto e si tiene conto anche delle zone di confini, quindi a rischio, perché se ci sono delle zone che confinano con chi non fa biologico, quell'alimento viene comunque trattato come se fosse convenzionale. E infine il prodotto viene portato in analisi, quindi analizziamo anche il prodotto, perché potrebbe anche essere contaminato per via di fattori, diciamo esterni. Se dovesse andare a offrire il prodotto che viene trasportato, in questo caso qui facciamo una pasta di granuluro, settore di cartelli, e a sua volta a fine produzione viene rianalizzato anche la pasta per evitare che ci siano sostituzioni di materiale oppure contaminazioni all'interno della trasformazione. Quindi noi vorremmo dare un esempio di come produrre un prodotto biologico, ovviamente incoraggiare anche i giovani, però le istituzioni dovrebbero anche loro cercare di darci una mano. Noi abbiamo delle regioni che finanziano ogni che serve con altri metodi, ma a volte delle lunghe aggine burocratiche e altri fattori non permettono anche questi aiuti arrivino nelle aziende. Infatti noi facciamo un esempio pratico, abbiamo un'azienda in base di carta dove percepiamo gli aiuti comunitari, mentre quella della Puglia purtroppo ha bisogno di essere bloccata da anni e quindi stiamo facendo agricoltura biologica senza percepire un centesimo di aiuti comunitari di tipo PSR per il biologico e brevi per la produzione. Ovviamente in Puglia siamo in perdita perché produrre biologico significa avere una quantità di alimenti inferiori. Noi ad esempio con il grano carpelli siamo intorno ai 15-18 quintali a litro, quando nei gradi normali si riesce a fare anche a raggiungere 80 quintali. I prezzi ovviamente non sono portati a... perché i 20 quintali io dovrei poter divendere minimo 120 euro a quintali per poter raccogliere la stessa quantità di convenzionale. quindi vi lascio fare quei conti, vi lascio... si capisce che è difficile se non ci sono dei... ecco perché spesso delle aziende poi vanno sui giornalisti perché cercano di sbrogliare pur di raggiungere un risultato. Io ovviamente non voglio demoralizzare nessun giovane imprenditore che voglia, diciamo, immettersi in questo settore. Però ovviamente qui ci sono anche restrizioni quindi volevo lanciare un piccolo messaggio e sperare che possa cambiare qualcosa nel futuro. Alla fine cosa raggiungere? Noi nella nostra tipologia guardiamo l'ambiente, guardiamo il tutto e l'azienda potrebbe, diciamo, l'azienda va avanti solo perché c'è un fattore civico quindi siamo proprietari del terreno, produciamo, trasformiamo e vengono il prodotto finale. Se questo ci fosse, diciamo, non potrebbe, diciamo, tutto questo continuare e quindi bisognerebbe, diciamo, abbandonare il progetto. Ovviamente io voglio concludere, vorrei parlare più di voi, però al fine devo lasciare tutto, però a tante persone. E le conclusioni che vuol dire che lavorare e rispettare l'ambiente è la cosa più bella che uno possa fare. Quando si produttiva il prodotto e si racconta a proprio figlio che il prodotto viene da una terra e viene con rispetto è un'emozione che è inevitabile. Vi ringrazio. Grazie, grazie, grazie a tutti per questa preziosa testimonianza. Si vede che con l'ambiente, che con la terra, ma soprattutto i tempi delle nostre traduzioni, come dire, non ci vengono qua, io so di smontare proprio quella del grano Sessore Gappelli che è stato poi riscoperto da tutti i bianchi, perché è qualcosa di importante, proprio anche dal punto di vista bianolettico, non solo quella della produzione della conservazione. Ma anche questa, comunque, è tutta una grossa teoria, quello sul biologico che non è biologico, che viene importato, soprattutto nel paese dell'est, su tematiche che andrebbero, come dire, maggiormente sviluppate. Noi, il vero biologico, con un'otopia, che comunque, già illuminare, ricevere delle acque illuminate, non potremmo utilizzare questa parola, però noi realizziamo delle, effettuiamo delle analisi chimiche residuale sugli elementi finari. Allora, dovete sapere che è una cosa molto importante. Nei prodotti convenzionali, le analisi vengono fatte con un bagno di terrore dello 0.3, quindi un acido decimale, mentre nelle analisi biologiche abbiamo uno 0,003, quindi 100 volte ancora più approfondite. Noi ci limitiamo, ovviamente, a realizzare analisi residuale che appartengono, che in grado hanno quasi 1.400 elementi chimici, oltre a glucosate fosfina e poi elementi, analisi sul don, quindi aflati e micotossine, che non vengono distrutte nemmeno a 350 gara, quindi saperebbe questo. Quindi trovare un prodotto oppure cercare di far sì che tutti coloro che faccio la biologica effettuino queste analisi sarebbe, a nostro barriere, una grandissima riuscita, quindi oggi invece produrre in questo modo e non essere apprezzati, perché è una soluzione. Perché noi diciamo sempre a tutti coloro che ha visto i nostri prodotti noi abbiamo un prodotto sano, al 100%, se il prodotto vuoi che sia buono lo dovete decidere voi, ma noi dimostriamo con le analisi, infatti se dovesse qualcuno di voi andare su un sito www.uterreducane.com può constatare che pubblichiamo le analisi volta per volta, più di questo non riusciamo a fare, quindi spero che molti altri che facciano il biologico non sei uguale a nostri, perché non vorremmo essere un riuscito a sostituire.